Amicissimi di youtuber, come faccio a non farvi vedere certe meraviglie oggi? Sono con Domenico, siamo a Neri naturalmente e purtroppo c'ho proprio voglia di farveli vedere perché stiamo trovando cose eccezionali. Oggi abbiamo dei funghi neri eccezionali. Guardate, guardate. Oggi è una giornata favolosa, siamo a metà ottobre, 14 per l'esattezza e vi volevo far vedere due cose precise perché già abbiamo il cofono della macchina pieno con i primi viaggi e non posso non fare altro che farvi ammirare queste cose. Perché sono di una bellezza unica e sola. Come si fa a non farveli vedere? Come? Guardate che tartufo che ho trovato qua. Guardate. E ancora? Guardate, guardate. Questo. Come si fa? Come? Vi devo far vedere per forza perché sono una giornata di funghi meravigliosi. neri da paura. Spettacolari. Spettacolari. Questa è già la seconda zona che facciamo. Già abbiamo riempito quasi la macchina. Un'annata eccezionale per la Sicilia. Se ancora qualcuno ha speranza di scendere lo può fare. E qua c'è l'altro co-protagonista della serie. Micio, saluta Micio. Come faccio a non fargli vedere queste meraviglie? Ah? Fai cosa c'è nella pancia? Vediamo cosa hai trovato. Ormai non abbiamo dove metterli. Questo è il problema. Ah, ho capito. Ancora Mici Mici? E poi più belli. Guardate, siamo arrivati al punto che abbiamo a metterli nelle magliette. Chi c'è a dire? Chi c'è a dire? Che possono capire. Che hanno a capire. Hanno a capire. In Sicilia, no? Ecco, bravo. Vabbè ragazzi. Era il piacere di farvi vedere queste meraviglie nere. Queste cose meravigliose. Queste cose meravigliose. Spettacolari. Ok. A dopo. Un saluto a tutti e un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Ciao Micio. Ciao.